Questo video riguarda i migliori 3 biciclette ellittiche. Il vincitore della qualità nel nostro biciclette ellittiche va al Bluffin Curve 3. Affidatevi a Bluffin Fitness se desiderate acquistare i migliori attrezzi da palestra per la vostra casa. La bici ellittica Cross Trainer Curve 3.0 della Bluffin Fitness è il nostro modello più grande di questo genere e permette di effettuare allenamenti di cardio a basso impatto anche da casa vostra. Viene spedita in parte pre-assemblata e dotato di tutte le migliori features. La base è dotata di ruote robuste ed è facile da spostare. 12x programmi automatizzati più 16x livelli manuali di resistenza vi permetteranno di passeggiare a passo svelto, di fare sprint o di simulare corse su terreni di vario livello. Il volano posteriore, il sistema Silent Drive e i freni magnetici per mettono un moto fluido ed esercizi di step ad alta intensità. Misurate il tempo, la distanza, le calorie bruciate and la pulsazione con lo schermo LCD retroilluminato della console di allenamento. Utilizzate l'app integrata e health su mobile o tablet, connettetevi tramite Bluetooth per tracciare and analizzare i risultati delle vostre sessioni di allenamento. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente qui sotto nella descrizione del video. L'alternativa è il Lancer biciletta. Ha superato il test dello standard ASTM e il certificato SGS. Questa cyclette pieghevole ha tre modalità. Completamente piegata, in piedi e sdraiata. Ruotando semplicemente la manopola, può essere convertito in una bicicletta reclinata che puoi utilizzare per scolpire efficacemente. Collega l'upfit show gratuita e immergiti digitalmente in un mondo di allenamento in realtà virtuale, inizia la tua vita sana con molti appassionati di fitness e registra con precisione i tuoi dati di allenamento. La cyclette pieghevole è dotata di una resistenza regolabile manualmente che può offrire diversi livelli di esercizio. Indipendentemente da uomini, donne e bambini, puoi trovare la tua resistenza di allenamento adatta. Lo schermo LCD della cyclette è facile da leggere e può tenere traccia del tempo di guida, della velocità, della distanza, delle calorie e del chilometraggio in qualsiasi momento. Il telaio fisso della cyclette pieghevole può essere facilmente piegato per risparmiare spazio e il volume è circa la metà delle dimensioni assemblate. Con i rulli nella parte inferiore, anche le ragazze nella palestra di casa possono muoversi facilmente. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente qui sotto nella descrizione del video. Il vincitore della performance premium nel biciclette ellittiche è visita allo store bicicletta. Il doppio manubrio ergonomico e antiscivolo offre migliori risultati durante l'allenamento della parte superiore. Volano da 8 kg. Dispone di sensori di battiti cardiaci ad alta sensibilità per un controllo totale durante l'allenamento. Incorpora pedali antiscivolo di grandi dimensioni progettati per lasciare la minima distanza tra i piedi e favorire la corretta posizione durante l'allenamento. Include anche piedini antiscivolo per sostenere il pavimento per una totale stabilità e sicurezza durante l'allenamento. 8 livelli di resistenza per un'intensità personalizzata di allenamento. È possibile selezionare il livello per regolare il livello di esercizio desiderato. Sistema di frenatura magnetico con massa oscillante per un uso sicuro durante l'esercizio e resistenza quando si sale e scende dall'apparecchio. Ti aiuta a controllare il tuo allenamento, conoscendo in tempo reale la distanza percorsa, le calorie bruciate e la velocità e la frequenza cardiaca. Supporto per dispositivi? Il sistema di movimento ellittico basato su cuscinetti simultanei offre un esercizio cardiovascolare senza tirarsi o impatti mobilitando più di 200 muscoli. Garantisce una pedalata stabile per utenti fino a 100 kg. Se ti piace il video apprezzeremmo un pollice in su o anche un commento.